Finalmente a casa. Sarà meglio che questo idiota stia dormendo questa volta. Giuro che se riparte con i Ti sei divertita, Luni? O merda simile, minca... Oh. Sembra che sia la mia serata fortunata. Che sollievo. Sembra così stupido. Ma chi dormirebbe così? Aspetta. Oh. Merda. Ha... Pianto. Non di nuovo. Mi chiedo... Per quanto tempo potrai andare avanti così? Lo so che non ne parliamo spesso, ma... Sono preoccupata per te, papà. Se solo sapessi cosa ti fa star male... Forse io... Ma che sto dicendo? Lasciamo perdere. Buonanotte, Blitz. Lo... 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 Grazie a tutti.